perché alle 6 sei già in stalla, il cavallo va pulito, sistemato, non deve mai mancare niente al cavallo fieno, acqua, mangime, la pulizia soprattutto, la pulizia è molto importante e quindi sono settimane di lavoro intenso che però sei completamente ripagato quando sei lì con loro e non parlo solo di vittoria perché è anche solo stare in un'arena con la tua cavallina con pubblico, giudici, sapere che sei lì in mezzo, tu e lei io ad esempio qualcuna l'ho fatta e mi affido a lei chiaro lei è tranquilla, guarda in giro, noi quindi ci rilassiamo io le parlo sottovoce, dico com'è, tutto a posto, tutto a posto, la tocco e lei è molto tranquilla e di conseguenza tranquillizza anche me e lei è molto tranquillizza anche me